Tutti vogliono parlare di cibo, tutti stanno parlando di cibo. Da quando Masterchef, il primo, ha sdoganato l'argomento, ormai ne parlano tutti. Addirittura i ragazzini sognano di diventare cuochi. Insomma, fino a, non so, 10 anni fa, 15 anni fa, sognavano di diventare calciatori. E quando ero io bambino, sognavamo di diventare astronauti. Ma questa è un'altra questione. Vediamo in televisione dei cuochi che si improvvisano nutrizionisti. E devo dire, spesso con risultati imbarzanti. O nutrizionisti che cercano di imitare i cuochi. E anche qui, spesso, quello che si vede è abbastanza scarso. Vediamo medici e scienziati che vanno in televisione e dichiarano cose che non avrebbero mai il coraggio di dire in un convegno scientifico o di scrivere in una rivista scientifica. E poi abbiamo i social che sono invasi da influencer, personaggi della tv, dello spettacolo, che smarchettano tè dimagranti, frutti del miracolo, beveroni che dovrebbero far dimagrire e cose di questo genere. Cioè, quindi c'è una grande, grande confusione. Perché c'è questo? È possibile fare qualcosa? Vi do, in questo breve tempo, il mio piccolo punto di vista. E lo faccio iniziando da un caso personale. Circa una settimana fa, proprio lunedì, e quindi stavo raccogliendo nel materiale per scrivere un nuovo articolo sulla rivista alle scienze. E avevo deciso di trattare il gin tonic. Il gin tonic, dal punto di vista chimico, è un cocktail particolarmente interessante, molto più interessante di tanti altri che magari vanno per la maggiore. Ricordo qui subito che l'alcol etilico è un cancerogeno sicuro per l'uomo, un cancerogeno di classe 1, ovunque sia presente. Però dal punto di vista chimico era interessante anche da raccontare. Allora, come faccio spesso? Apro Google e cerco delle informazioni. Sapete che quando scrivete qualche cosa su Google, oltre alle varie pagine, vi vengono fuori delle notizie, se recentemente se ne è parlato. E quel giorno, lunedì, vedo queste notizie. Tutti in forma, grazie al gin tonic, aiuta a bruciare le calorie più velocemente. Oppure, di sapore, scrive, gin tonic nella dieta fa bruciare calorie più velocemente. Lo dice uno studio. Questa è la frase che mi fa sempre saltare. Allora, sapete che quando esce una notizia di questo genere, nel giro, a volte di poche ore, a volte poche decine di minuti, un sacco di altri siti la copiano. A volte copiano direttamente il lancio d'agenzia, se c'è un'agenzia, oppure, insomma, fanno delle piccole modifiche perché non vogliono, insomma, bucare la notizia, come si dice. Allora, quello che faccio, di solito, è andare a vedere la prima che è uscita, cronologicamente, per vedere, diciamo, quella da cui tutti gli altri hanno copiato. La cerco e trovo che è stata pubblicata da Leggo. Leggo, a firma di Simone Pierini, scrive, bere gin tonic può aiutarti a bruciare calorie più velocemente. Lo studio lo dimostra. Allora, è il sogno di chiunque voglia dimagrire. Se ci pensate, io mangio quello che mangio di solito, anzi, abbondo un po' di più, la carbonara, ma facciamo un'altra forchettata. Poi, a fine pasto, mi bevo un gin tonic e dimagrisco. Sarebbe veramente il sogno. Però, appunto, da scienziato dico, ma non è possibile. Cioè, l'alcol, un grammo di alcol, sono sette chilocalorie. È quasi il doppio dei carboidrati, che sono quattro. È quasi uguale ai grassi, che sono nove chilocalorie. E in più, oltre all'alcol, nel gin tonic c'è lo zucchero. Noi sentiamo l'amaro dell'acqua tonica perché c'è il chinino, ma in realtà c'è dentro anche dello zucchero. Quindi, insomma, voglio andare a vedere questo studio. Oh, magari l'hanno scoperto davvero. Comincio a leggere, dice, bere gin tonic può aiutarti a bruciare calorie più velocemente. Sembra incredibile, considerato che stiamo parlando pur sempre di un alcolico. Ma secondo gli scienziati, gli effetti del gin sono ottimi per il nostro metabolismo. E dico, secondo gli scienziati. Ma poi uno va avanti. I ricercatori hanno recentemente scoperto alcune prove piuttosto sorprendenti. Gli scienziati, recentemente. Ma quali scienziati? Recentemente quando? Quando è successa questa cosa? Dove? Chi l'ha fatta questa cosa? Continuo, sperando di cercare, di trovare informazioni, dice, l'esperimento è stato testato sui topi. A metà di loro è stata data acqua, l'altra metà è il gin. Però anche qui, qual è l'esperimento? Dove è stato pubblicato? Quindi qualcosa non mi torna, vado avanti e dico, dove sono le fonti? Le fonti, riportare le fonti per qualsiasi articolo giornalistico, scritto da un giornalista, da un divulgatore, da chiunque, sono importantissimi perché è l'unico modo che noi lettori possiamo utilizzare per verificare, prima di tutto, la veridicità delle fonti. Si hanno scritto veramente quello che dice lo studio originale. E poi qualcuno può decidere di approfondire l'argomento. E quindi fonti però non ce ne sono. Uno dice, continuo, vado verso il fondo, magari l'hanno messo in fondo. E dice che alcuni di loro hanno dimostrato i topi, un incredibile aumento del 17% in termini di tasso metabolico. È qualcosa che gli scienziati chiamano effetto post-bruciato, tra le virgolette. Io devo dire che da scienziato effetto post-bruciato non l'ho mai sentito. Non l'ho mai sentito. Però, magari, vado avanti e vedo delle robe strane. Un italiano strano parla del gin e dice la sua formazione infatti proviene dalle bacche di ginepro. Il gin si fa, cioè, è aromatizzato con le bacche di ginepro, ma la sua formazione, ma il gin, casomai, si produce, si distilla, ma perché si usa la sua formazione? Anche italiano è. E andando avanti ci sono altre cose, per esempio dice le bacche di ginepro aiutano a prevenire l'infezione. Qual è l'infezione? compare così. Quindi, a naso qualcosa mi puzza, no? Perché sembra veramente, almeno in parte, tradotto con Google Translate. Quindi è palese e comunque le fonti non ci sono. Allora vado su Google Translate e voglio scoprire, andare al contrario. Vado a cercare effetto post bruciato e trovo, faccio il contrario dall'italiano e l'inglese è post burn effect. Allora cosa faccio? Scrivo su Google post burn effect gin e calories e traccati. Il primo risultato, che mi salta fuori è questo studio pubblicato lo stesso giorno da News Beezer e dice se bevi gin tonic puoi bruciare le calorie più velocemente. Lo studio lo dimostra, esattamente lo stesso titolo e in realtà è proprio se li metto uno di fianco all'altro è lo stesso articolo, c'è anche la stessa fotografia e addirittura ci sono gli stessi neretti, solo che è palese che l'italiano sia la copia. La cosa strana è che sono stati pubblicati esattamente allo stesso minuto, quindi forse i due siti io non lo so ma forse i due siti fanno parte di un network, di un circuito per cui contemporaneamente si traducono le notizie le pubblicano, non lo so, questo sinceramente non lo so, però arrivo alla fine dell'articolo e comunque le fonti non ci sono. Ribadisco una cosa che chiunque racconti in video sulle storie scriva su un articolo anche sui giornali vale la stessa cosa, bisogna mettere i link alle fonti, non basta citare, bisogna mettere proprio i link perché questo permette alle persone di cliccare e andare a leggere, questo è un brutto vizio che i miei italiani si ostinano a non voler fare perché ovviamente se voi state leggendo un articolo c'è un link, cliccate il link e andate a leggere l'informazione, cosa utile per noi lettori, ma sparite, andate via dal link, dal sito e quindi non vogliono che tu lo faccia, non tutti, alcuni lo fanno, alcuni no, comunque è palese che la fonte era in qualche articolo inglese e allora mi metto a cercare e trovo questo articolo di Herr che dice nel titolo Bergingtoni può aumentare il metabolismo però dà qualche informazione in più, o logico, finalmente, e infatti dice che lo studio arriva dall'università di Sigulda, Latvia, cioè Lettonia, interessante, vado avanti a leggere e c'è anche il nome di chi l'ha fatto questo studio, il professor Tisa Lai, allora mi metto a cercare e cerco, Sigulda esiste ma non c'è nessuna università e poi mi metto a pensare e dice ma sto professore Tisa Lai, Dis a Lai, Dis is a Lai, Dis is a Lai, in inglese vuol dire questa è una bugia e qui sotto non c'è l'articolo, non ci sono le fonti ma ho trovato l'articolo originale pubblicato da un sito che si chiama Prima, inglese, dice Bere Gin può aumentare il vostro metabolismo diccono gli scienziati con un asterisco questo articolo è stato pubblicato il primo di aprile del 2017 ma c'era l'asterisco l'avevano scritto subito dice sotto guardate stiamo solo scherzando nel caso non l'abbiate capito questo è un pesce d'aprile che vorremmo tanto fosse vero la cosa drammatica che secondo me è che questo articolo è vecchio di due anni e per qualche motivo è stato ripescato chissà perché senza l'asterisco preso per vero entrato in questo circuito e tutti gli altri adesso lo stanno copiando io sono sicuro che fra un paio d'anni reggerete la notizia di uno studio dimostra che bere il gin tonio magari cambieranno magari sarà il mojito o qualche altra cosa perché tanto non c'erano le fonti uno come fa a controllare è veramente una giungla ma allo stesso giorno lo stesso giorno Radio 105 mi pubblica il gin tonic sarebbe un toccasana per l'asma e la rinita allergica non so perché in quel giorno tutti si occupavano di gin tonic e anche qui lo leggo il titolo dice che è un toccasana toccasana è qualcosa che ti fa bene uno però va a leggere proprio nell'articolo e dice che in realtà non è che è un toccasana il problema è che alcune bevande alcoliche il vino per esempio contengono dell'istamina contengono dei solfiti e questi possono scatenare delle reazioni allergiche a chi è all'asma e la rinita allergica se uno beve un distillato come il gin la vodka o altri non ce n'è o ce n'è molto poco per cui il titolo è completamente diverso dall'articolo ma anche qui niente fonti quindi è una porcheria anche questo non condividete porcherie neanche per divertimento ma a questo punto mi metto a cercare da dove hanno copiato perché è palese che hanno copiato anche qui lo trovo trovo un articolo dell'Independent del 2017 non lo so perché ma a quanto pare quel giorno si doveva parlare di gin tonic e questo tra l'altro è copiato spudoratamente purtroppo questo è un problema siamo ormai abituati all'informazione gratuita ma l'informazione gratuita vale poco e in questi siti anche dei grandi giornali ci sono dei ragazzi che magari sognavano di fare di emulare tutti gli nomi del presidente e che però sono pagati a volte 10 euro per in tutta fretta prendere da qualsiasi sponte legittimo mello senza controllare per scrivere una roba che viene mandata e deve essere macinata perché tutti noi dobbiamo cliccare e guardare che qualità volete che ci si possa mettere in una roba di questo genere vado a vedere le fonti e vedo ma è meno vedo lo studio lo studio esiste ma non è uno studio è un rapporto di un'associazione che si chiama Asma che ha tra i suoi membri delle persone che soffrono di asma e di nitallergica e ha fatto un sondaggio non è uno studio ha chiesto alle persone iscritte ma voi quando bevete qualche cosa cos'è che vi dà una reazione quelli che bevevano vino champagne altre cose dicono io a volte ho una reazione l'asma chi beveva gin no questo non è uno studio questa è una roba che non c'entra ma come facciamo noi a controllare se non ci danno le fonti quindi controlla la fonte usa le fonti perché è l'unica cosa che ci permette a noi lettori di decidere almeno decidere se ti do fiducia o meno mi rifiuto di commentare anche questo terzo articolo che è stato pubblicato per la scienza se bevi gin tonic sei uno psicopatico vi spieghiamo perché perché non abbiamo tempo non abbiamo tempo basta con gli articoli spazzatura e noi non dobbiamo condividerli tuttavia giusto per non dare solo la colpa al giornalismo anche la mia categoria gli scienziati ha le sue colpe quando leggiamo articoli di questo genere la tecnica del limone congelato vabbè può combattere i tumori maligni oppure mangiare datteri può prevenire il cancro mentolo è un bruciagrassi che aiuta a dimagrire o quello è il mio preferito mangiare cioccolata ti rende più intelligente quindi se volete fare il sudoku domenicale se non riuscite a montare la poltrona poang dell'ikea zacchete andate a comprare il cioccolato fondente mi raccomando se tu voi leggete questi articoli si citano studi che stavolta esistono davvero l'università di Cambridge o lo studioso tal dei tali il punto è che questi articoli di solito cioè gli articoli scientifici su cui si basano hanno una validità presi da soli pressoché nulla non valgono niente spesso sono studi epidemiologici o studi che prendono tante persone le intervistano cercano di di tirar fuori delle ipotesi su cui poi gli scienziati devono lavorare in seguito ma presi da soli non vogliono dire assolutamente nulla questo per esempio è nato da un articolo pubblicato su una prestigiosa rivista New England Journal of Medicine che si intitolava consumo di cioccolato funzioni cognitive e premi Nobel perché correlava il numero di premi Nobel vinti in un certo paese con il consumo di cioccolato uno studio epidemiologico questo è uno dei più belli secondo me recentemente chi ha il sedere grosso fa i figli più intelligenti anche qui mi sono preso la briga c'era davvero l'articolo sull'International Journal of Obesity e il titolo è molto meno insomma è un po' più tecnico dice il grasso corporeo gluto femorale come determinante della salute metabolica ma alla fine hanno fatto una correlazione e per qualche strano motivo con i numeri che avevano hanno trovato questa roba qua ecco so un premio Nobel per l'economia disse che se torturi i dati abbastanza a lungo confesseranno qualsiasi cosa perché è vero e questo è vero poi c'è tutto un problema della pressione che c'è anche sugli scienziati di pubblicare 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 qualsiasi schifezza indipendentemente dalla qualità questo è uno dei miei eroi John Ioannidis è un professore di medicina salute pubblica e statistica all'università di Stanford lui studia gli studi scientifici soprattutto quelli in campo medico e questo è un articolo scientifico che ha pubblicato lo potete scaricare liberamente ha scostruito un modello statistico-matematico per dimostrare perché la maggior parte dei risultati pubblicati in letteratura sono falsi e questo è vero magari non è la maggior parte ma lo vediamo tutti i giorni un giorno ci dicono l'università dell'Italia ha scoperto che mangiare datteri previene il cancro e poi magari dopo un mese un anno due anni ci dicono no ragazzi ci siamo sbagliati o addirittura arriva lo giustato opposto mangiare datteri fa venire il cancro non sembra che adesso tutti gli alimenti si dividano in due categorie quello che fa venire il cancro è quello che te lo guarisce è un grosso problema è un grosso problema e non si dovrebbe dare peso all'ultimo articolo pubblicato questa è una cosa che ho visto l'altro giorno un articolo pubblicato sull'avvenire e il titolo mi ha fatto impressione il vino biologico ma fa anche bene allora il vino è buono se è buono ecco ma non esiste nessuno studio che ti può dimostrare che fa bene perché come ricordavo prima l'alcol è un cancerogeno il giornalista si riferisce a questo articolo che è stato appena pubblicato dove dicono di trovare una differenza nell'assorbimento nell'alcol nel metabolismo confrontando dicono i vini quelli cosetti naturali quelli fatti che vanno di modo adesso senza solfiti senza lieviti aggiunti eccetera eccetera con dei vini convenzionali tra l'altro i vini in realtà ne usano uno quindi ma non è questo il momento di discutere appunto le debolezze statistiche di questo articolo tra l'altro l'autore correttamente come si fa negli articoli scientifici mentre non sempre si fa negli articoli giornalistici dichiara il proprio conflitto di interesse che gli studi vanno pagati ecco costa fare degli studi e qui l'autore dichiara di aver ricevuto dei soldi da un'azienda che distribuisce bevande alcoliche il punto vero è che prima di tutto non si può dire che il vino fa bene secondo tutti gli istituti internazionali la dose sicura di alcol che si può bere è zero poi uno decide che rischi prendere ma non si può dire che fa bene biologico o non biologico è uguale il punto vero comunque è che il singolo articolo mai non significa nulla bisogna prendere sempre gli articoli nel loro contesto e non è che l'ultimo articolo pubblicato smentisce tutti quelli prima e questo è un problema soprattutto vedo io quando in televisione chiamano l'esperto è l'esperto che dice delle cose ma noi come facciamo a sapere che non è la sua opinione personale io non voglio l'opinione dell'esperto io voglio uno medico uno scienziato che mi riassume il pensiero della comunità scientifica in quel momento o almeno della maggioranza della comunità scientifica e invece a volte sento persone che vanno lì e fanno dichiarazioni che la gente pensa che sia quello che pensano la comunità scientifica in quel momento questo non è vero e se ne chiamano due è ancora peggio spessissimo leggete degli articoli dove ci sono i virgolettati allora il professor X dichiara che piove e il professor Y dichiara che c'è il sole e basta l'articolo finisce così ma se sei un giornalista se scrivi di qualche argomento non puoi limitarti a dire lui dice che piove l'altro che c'è il sole il tuo compito è aprire la finestra e capire se fuori piove chi ha ragione di due se si riesce allora io non sono tanto ingenuo da non capire che ci sono dei problemi economici di gestione economica a monte di tutto questo quindi io non ho idea di come risolverlo io sono fortunato perché il mio mestiere è un altro quindi io non devo dipendere io ho deciso per esempio di non fare pubblicità dei prodotti di cui piove io non faccio pubblicità di alimenti perché la mia credibilità ne verrebbe intaccata e quindi non posso farlo altri hanno fatto delle scelte diverse c'è chi reduce da varie trasmissioni televisive fa quello proprio di mestiere e quindi ci sono quelli che hanno un'etica e cercano di selezionare i prodotti da pubblicizzare i propri followers altri che dicono delle cose che sono francamente contrarie a quello che dice la comunità scientifica è un problema è un problema anche per l'informazione la ricerca costa l'informazione costa questo per esempio è un sito di un giornale online che si occupa di cibo che per le sue ragioni legittime ha deciso per esempio di fare una campagna contro l'olio di palma e spessissimo ha preso nelle decine forse centinaia di articoli di mira la nutella come sapete la nutella contiene dell'olio di palma non è qui il momento di discutere della confusione che c'è stata nella discussione pubblica tra aspetti ambientali aspetti salutisti però io dico che da lettore avrei preferito magari non vedere la pubblicità della crema novi nel momento in cui tu mi fai tutta una serie di articoli contro la nutella perché è giusto ed è auspicabile essere indipendenti ma è altrettanto importante apparire indipendenti questo capita anche al mondo scientifico come ho detto le ricerche costano bisogna finanziarle tempo fa ho scritto quell'articolo sui grani antichi in cui cercavo di spiegare che in realtà è un'invenzione del marketing antico sono tutti più o meno uguali ho fatto una revisione della letteratura ho selezionato gli articoli perché gli articoli scientifici uno non vale uno nella scienza si pesano si va a vedere uno scienziato si è lamentato pubblicamente su un sito perché io non avevo analizzato e messo nella discussione anche il suo articolo e io gli ho risposto pubblicamente che il suo articolo l'avevo letto andava contro tutto quello che dicevano altri articoli pubblicati in letteratura e poi era stato finanziato dalla Camut International dichiarato ovviamente e quindi va benissimo nella scienza bisogna sempre andare nel merito però è statisticamente vero e dimostrabile che guarda caso gli articoli scientifici finanziati da un committente molto più spesso vanno a favore diciamo del committente che non al contrario e quindi è giusto essere un po' più cauti quindi diciamo deve essere almeno verificato da altri studi indipendenti perché è giustissimo fare le pulce gli scienziati e a Monsanto ma mica solo loro quindi io non so bene come uscirne ma di sicuro so che noi qualcosa possiamo fare poco magari ma qualcosa possiamo fare possiamo iniziare a premiare chi è affidabile e a punire chi non lo è quindi togliete il like alle pagine che diffondono fesserie smettete di seguire le celebrities su Instagram che smarchettano cose millantando effetti che non possono esistere smettete di condividere su Facebook articoli che sono delle palesi porcherie o comunque qualsiasi cosa che non abbia delle fonti non è la soluzione però secondo me deve partire da noi io vi ringrazio grazie grazie